non è il è il è è il il gruppo da ragion mano retico io sono pure che non si può fare non lo che non si può fare perché naturalmente non abbiamo posizioni pericolose quindi noi ci andiamo a girare per l'ora pezzo dai qui dai cazzo un parco di carcina su un pianto per lobibica Alla prossima 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 Alla prossima